Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo episodio del Let's Play di Minecraft Nello scorso episodio abbiamo fatto la farm di Villager con qualche problema che ho provveduto a fixare Non del tutto, ma lo vedremo in questo episodio Direi che possiamo invece cominciare andando nel Nether a cercare della Glowstone E mentre andiamo nel Nether vi voglio parlare di alcune cose Intanto cerchiamo la Glowstone Come vedete abbiamo dei filamenti davanti a noi di Glowstone Ma sono pochi, non sono tanti Ecco c'è quello lassù che probabilmente potrebbe fare al caso nostro Però come vedete questa parte di Nether è davvero molto molto spoglia Ve l'ho già accennato, la abbandoneremo Perché voglio spostare il portale, farlo un pochino più carino E probabilmente avere la possibilità di trovare delle fortezze Sta di fatto ragazzi che mentre faccio tutto questo e mi preparo a prendere quel bel groppo di Glowstone Volevo parlarvi di quello che hanno annunciato al Minecraft on Earth Io personalmente faccio fatica a vedere Minecraft per com'è adesso Perché la 1.14 o comunque le prossime versioni cambieranno completamente il gioco Ecco perché ragazzi d'ora in poi giocheremo la vanilla in previsione della 1.14 Quindi prenderemo tutti gli accorgimenti Per quanto riguarda non so per dire l'attacco dei barbari, dei villager barbari eccetera eccetera Cercheremo di fare dei sistemi di difesa per la nostra base Quindi ragazzi sì, la mossa di marketing ma soprattutto questo aggiornamento Cambia tutto il modo di giocare su Minecraft E questa è una cosa spettacolare Io sono molto molto contento di questo aggiornamento Ho votato la savana, purtroppo non ha vinto al primo colpo Ma sono felice che prima o poi la implementeranno E ci sono tantissime novità ragazzi Mi sono piaciute tutte, arriveranno ben presti panda eccetera eccetera E davvero è difficile pensare alla vanilla per come la vediamo ora Intanto però sento che c'è un ghast qua vicino quindi siamo attenti Però me ne approfitto e prendo tutta questa glowstone Ok, siamo all'ultimo pezzettino Perfetto, abbiamo eliminato tutta la glowstone da queste parti Era in realtà un bel po', ora non so neanche quanti pezzi ne ho preso Però devo dire che mi hanno fatto un po' di scorta E ci servirà in questo episodio perché voglio andare a fare il mercato dei villager Ovviamente ragazzi in 1.14 o comunque nella prossima versione Il villaggio ma soprattutto la farm di villager non funzioneranno più Ecco perché dobbiamo approfittarcene in questi mesi Per fare una farm di ferro funzionante per reperire il ferro Prima poi di fixarle e capire un po' e cercare un sistema Per ovviare al problema Intanto c'erano 32 pezzettini di glowstone Perfetto Ora torniamo nell'overworld Vi faccio vedere un po' la farm di villager E cerchiamo di fixarla insieme in questo episodio Ci occupiamo anche di fare la parte del porto Così tralasciamo quella parte e la completiamo E poi davvero ci prepariamo a fare dei progetti molto molto importanti Avere una base così aperta non è più concepibile Con le prossime versioni perché potranno arrivare villager Che potranno smantellare tutto Quindi capite bene che davvero giocare una vanilla ora cambia Cambia le carte in tavola E davvero voglio cominciare a farlo Quindi ben presto faremo anche tutta una sorta di muro protettivo per i villager E dobbiamo stare davvero attenti Lo so probabilmente sto correndo troppo So benissimo che mancano tanti mesi prima del rilascio della 1.14 So benissimo che prima arriverà la 1.13.2 Che dovrebbe essere ottimizzata E aggiorneremo il mondo a quella versione E però ragazzi probabilmente non ci metterò gli snapshot della 1.14 Visto i precedenti problemi che abbiamo avuto Quindi faremo poi il salto Però comunque abbiamo mesi di scarto per giocarcela E dobbiamo capire un po' come funziona In tutto ciò ragazzi vedete che la farm è completamente cambiata Ho eliminato il pigman che dava solo problemi Abbiamo più villager perché ne sono nati ben 3 Abbiamo un nuovo villager con la tunica completamente marrone Che in realtà non è lui mai nella vita No è laggiù Abbiamo però altri due villager E la farm non funziona come dovrebbe Ho infatti cambiato delle cose Esatto abbiamo il fisherman Ho cambiato delle cose Ho messo di nuovo tutte le carote Ho tolto il villager dalla suma Ho fatto una stanzetta qua giù che ora vi faccio vedere Dovrebbe ora funzionare Perché ho ricreato un villaggio artificiale Che come vi dicevo Nelle prossime versioni non si potrà più fare E qua dentro abbiamo un villager In mezzo a queste 9 porte Che le apre E intanto aspettate che Eccolo qua Perfetto E come vedete fa funzionare il tutto Ora però vorrei anche uscire Grazie È possibile Perfetto Richiudiamo questa parte Intanto vado a buttare qualcosa che non mi serve Tipo le kelp Poi le riprendiamo Ecco qua Ha fixato questo Come vedete ragazzi Abbiamo davanti a noi L'ultimo villager Che è nato Questo villager È molto importante È un farmer Che è davvero il massimo 19 pezzi Ti dà uno smeraldo 15 patate E 15 carote È uno dei farmer migliori Che potevano venire fuori Ed è un peccato Perché lo vorrei Come dire Dedicare al mercato In modo tale da farmarci Però è importantissimo Averlo lassù Quindi ora Insieme a voi Voglio creare il sistema Per portarlo lassù E in tutto ciò ho dimenticato il bucket Quindi vado a prendere il bucket E vi spiego un po' Come fixiamo la farm Per fortuna Ce l'avevo qua il bucket E vi voglio anche far notare Che sto cominciando a togliere Tutte le rotaglie Fino al villaggio Guardate un po' quanti stack Quindi ora Per prima cosa Vado a pulire un po' l'inventario Vado a prendere un bucket D'acqua D'acqua giù E vediamo di portarlo Al secondo piano E probabilmente Lo lasceremo insieme al fisherman Perché farmer e fisherman Sono credo I due villager migliori Per cominciare a farmare Anche perché Come vedete loro Non farmano Non si accoppiano E probabilmente È dovuto al fatto Che hanno l'inventario pieno O magari c'è bisogno Del farmer Quindi per evitare Tutto questo Io direi che posso scendere Anche qua giù Cercando di non spaccare nulla Ma sarà difficile Ce l'ho fatta E direi che possiamo mettere Una ponte d'acqua Qua giù E ora vi spiego Perché come vedete Ho messo delle botole Per fare un ascensore ad acqua Per il nostro farmer Qua giù In modo tale da portarlo Pino al piano superiore Quindi a questo punto Utilizzo un blocchetto Anche questo Vado qua a spaccare La nostra slab In questo modo Anzi in realtà Ci vado a mettere Prima un pezzo Di sabbia In questo modo Poi vado a far crescere La kelp Fino alla fine E in realtà Me ne servirà Un altro pezzettino Probabilmente Sì O forse no Forse basta Direi che posso Spaccare anche questo vetro Che è molto importante Quindi me lo riprendo Col siltac Eccolo qua E lui dovrebbe essere spinto Fin qua E dovrebbe arrivare Quaggiù Direi che è perfetto Per spostare villager Finalmente 1.13 Ci dà la possibilità Di giocare anche su questo Forza signor villager Mi vada dentro l'ascensore Ad acqua Grazie La prego Ok devo portarlo Da questa parte Ci vorrà un'eternità Forza Forza Eccolo Qua Perfetto Uh Ok Funziona Funziona Ok Perfetto Uh guardate Guardate un po' ragazzi E' arrivato il farmer E tutti hanno trovato La potenza dell'amore Guardate un po' Quanto farmano Farmano tantissimo Il farmer Era essenziale Perché c'è il farmer Giusto Fisherman Scusate Loro si stanno accoppiando Quindi non vorrei disturbarli Troppo eh Esatto Il farmer E' arrivato fin qua Quindi a questo punto Vado a rimettere Il nostro vetro In questo modo Vado a fixare L'ascensore laggiù Perché ora arriveranno I piccoli farmettini E guardate un po' Il farmer Quanto è stato providenziale Per la farm Sono tanti villager lassù Quindi probabilmente Dovrò fare un po' di pulizia Intanto cadono carote dal cielo Perfetto Vado però A togliere tutto questo E probabilmente Vado a fixare Anche l'ascensore Con delle fonti d'acqua Anzi Eliminando Se riesco La fonte d'acqua lassù Sia anche infinita Vediamo un po' che succede Infatti Devo per forza fixarlo Ecco Mettendo dei blocchi solidi In questo modo Non mi resta che mettere il muretto E dovrei aver fixato la farm Ora vediamo Quanti villager nascono Se nascono E soprattutto Se si spostano In tutto ciò Io ho fame E fintanto che loro Continuano a cupulare Direi che ci possiamo occupare Del nostro porto Guardateli un po' Che tutti si accoppiano Ragazzi Probabilmente abbiamo reso Questa farm Estremamente oppine Nei prossimi mesi Cercheremo di prendere Quanti più villager possibili Perché davvero Poi sarà tutto inutile Ma noi ci proviamo Intanto Però per questo progetto Di oggi Vorrei fare un qualcosa Del genere Ovvero creare Prima il colorante Altrimenti non posso fare La concrete E ce l'abbiamo E soprattutto Voglio andare a fare Della polvere di concrete Grigia Perché voglio andare A fare la decorazione Proprio con essa E cominciamo ragazzi Cominciamo a spaccare tutto E a fare le cellette Dove mettiamo I nostri villager Quindi io associerei La concrete powder grigia E qua ci metterei Però delle slab Di stone In questo modo Per fare delle cellette Di questo tipo Mi piace molto Questa cromatura E questo pattern Di colori Devo dire che si sposano Abbastanza bene E direi che qua Possiamo fare anche Il piccolo Come dire Bugigattolo Per il nostro amico Anzi In realtà qua Possiamo anche mettere Dei blocchi di terra Che non si vedranno Perché tanto saranno coperti E qua ci vado a mettere Sempre la concrete In questo modo Direi che la celletta Va bene Qua ci sarà anche Il muretto Per il villager E siamo tutti tranquilli Mentre al pavimento Probabilmente però Vorrei metterci del legno Quindi vado a spaccare L'ennesimo albero di spruce E voglio anche far notare Che ho praticamente Distrutto mezza foresta Che andremo a ripiantare Con una certa logica Quindi ragazzi Dovrò anche fare un lavoro Di ripiantaggio Mettiamola così di piante Per rendere questa zona Abbastanza carina In tutto ciò Loro continuano ad accoppiarsi Come se non ci fossero domani Ma ne ho visto Dei villager piccolini Quindi ora voglio capire Se è caduto qualcuno Spero di sì Spero ci siano dei villager Eccolo qua Nuovo villager Che in realtà Non credo mi interessi troppo Punto al cartografo Punto al nostro librario Colmaming Quindi pian piano Avremo tutto Più o meno ragazzi Sarà così Diciamo che avremo i muretti Qua avremo il villager Non dovrebbe Aver problemi Per quanto riguarda I mob ostili Qua magari faremo Delle coperture Con un item frame Magari qua appeso Con il simbolo Che so Librarian Ci metto un libro Piuttosto che il naming Piuttosto che Non so Il farmer Una carota Eccetera eccetera Quindi ora Devo ripercorrere Le stesse cose E fare tutte le cellette Da queste parti Direi che ci siamo quasi Ragazzi Sto andando a fixare Questa parte Come vedete Ho fatto tutte le cellette Identiche Sono ben 5 Da quella parte E 3 da questa Quindi abbiamo 8 slot Per 8 villager Significa magari Prendere non so 1 o 2 farmer Piuttosto che cartografo Librarian Eccetera eccetera E devo dire Che il nostro Bel mercato Prende forma Ora andiamo però A decorare tutto il porto Perché così Non mi piace per niente E diamo un senso Alla struttura Direi che sta prendendo forma Il nostro bel mercatino Ma vorrei Uh Ecco qua Ho trovato un posto Dove fare un'isoletta di pozzol Secondo me è molto carina Quest'isoletta Direi che ci sta Magari Ora farmo il legno Che mi serve E però Poi faccio ricrescere Un bel alberone Di spruce Bello grande Così in questo modo Perché devo dire Che ci sta Bene E mi piace molto Che ci sia Quest'albero gigante Qua davanti Ok vado a ripristinare L'albero Mi piace Probabilmente Non troppo Magari con qualche foglio In più sarebbe stato Più carino Ma come vedete Non è l'unico Perché ho piantato Anche un bel alberone All'interno del porto Ora Con tutto il legno Ho fatto dei pezzi Di corteccia Perché vi voglio far vedere Cosa ho intenzione Di fare Partendo probabilmente Da qui Io comincerei A tracciare I contorni Del nostro porto Quindi metto anche Dei muretti In questo modo Anzi In realtà Pensavo Di fare Qualcosa Di un pochino Più particolare Ovvero Dove ho il piccone Eccolo qui Vado a spaccare Questo E vado a metterci Una bella Fence Di oak Perché voglio dare Un po' di differenza Con i colori Quindi in questo caso Qua sarà molto Molto bruttino Da vedere Probabilmente Però dai Ce lo faremo bastare Quindi qua Ci mettiamo Un altro pezzo Di corteccia Quassù E devo dire Che mi piace Poi ci allontaniamo Di cinque blocchi E facciamo la stessa cosa Quindi tre Quattro Cinque E quindi In questo blocco Dobbiamo fare Di nuovo La stessa roba Vediamo un po' Se ci piace Mi piace Si vedono però Le parti inferiori Che vado a fixare Quindi tutti quei blocchi In più Probabilmente li fixiamo Con delle slab In modo tale Che non si veda troppo Quindi in realtà Ecco Vado a fare qualcosa Del genere E come vedete Vado a nasconderli E anche da lontano Sembrerà solo Un pezzo di porto Più basso Così mi piace Di più Così ragazzi In questo modo Congiungendoci Con tutte le fence Di oak Possiamo andare A fare tutto il contorno Del porto E abbiamo un effetto Di come dire Copertura Ma soprattutto Di sicurezza Là sopra Ma anche visivamente Qua sotto È più carino Perché lo facciamo Un pochino più grande E soprattutto Hanno senso Questi pillar Che abbiamo fatto Quindi in questo caso Io vado ad aumentare Tutto di un blocco Così almeno poi Vado ad aggiungere Le fence Che mancano E direi che però Il risultato Dai mi piace A questo punto Vado a dare Un po' di ricchezza Al nostro porto Con dei cespulli Messi così A caso Assolutamente A caso Che magari vanno Anche qua Sulla copertura Così E danno un po' Di texture E cambiano Un po' Il legno Perché non mi piaceva Troppo Quindi magari Facciamo così Qua invece Magari lo aggiungo Da questa parte E anche qua Vado a dare Un po' Di verde In questo modo E come vedete Già il porto Ha cambiato tanto In realtà l'aspetto E stessa cosa Possiamo fare Da queste parti Quindi magari Facendo qualcosa Del genere Possiamo ricreare L'effetto Della siepe E magari qua Però ci congiungiamo In questo modo Mi piace molto di più A questo punto Non ci resta che fare I nostri Bei lampioni Perché tutta questa zona Deve essere ben illuminata Quindi con delle bar di ferro Vado a fare Un doppio strato E sopra ci mettiamo La glowstone E la ricopriamo Con le trapdoor di occhi Insomma Un design abbastanza classico E finalmente Abbiamo il risultato Finale Non proprio finale Perché vado a mettere Dei fiori Qua negli eye wall Che ho lasciato Quindi vado a mettere Delle peoni E li ho fatte riprodurre Con un po' Di buon meal E devo dire che danno Tanto tanto colore Al nostro porto Magari qua in mezzo Ci possiamo mettere Degli altri fiori Non so bene Mancano delle fence qua Ma devo dire Che in complesso La struttura È praticamente finita Vediamo un po' Come sta il nostro villager Vediamo un po' Eccolo qua È cresciuto Guarda verso in alto E lassù invece Che succede Ora vediamo un po' Perché li vedo Un pochino timidi I miei villager Ma in realtà Dovremmo aver fixato Dovrebbe funzionare davvero bene Quindi basterà stare qua Un pochino E cominceranno ad accoppiarsi Per quanto riguarda I nostri lampioni Ho deciso di mettere Le nostre trapdoor Che abbiamo avanzato Dall'ascensore ad acqua Quassù Così almeno abbiamo dato Un'altra texture Mentre ho deciso di utilizzare Quelle di oak Per i lati Come al solito Però devo dire Dai che nel complesso Mi piace Pian piano Quando avremo villager Interessanti Li metteremo nelle loro celle Metteremo anche I litem frame E pensavo anche Di fare E non vedo l'ora di farla Probabilmente Lo faremo presto Una farm di lana Quindi di pecore colorate Per mettere qualche banner Per dare un po' di colore A questo porto Perché è molto molto legnoso Mi piace Devo dire mi piace Abbiamo dato un po' vita Anche a questa parte Della vanilla Visto che Ce l'avamo occupati Solo di quell'altra E devo dire dai Che nel complesso Il risultato Non mi dispiace affatto E tutto ciò ragazzi Vi dico che per questo episodio È tutto io Spero che vi sia piaciuto E se così vi invito a mettere un mi piace Iscrivervi al canale E farmi sapere sotto In commenti che ne pensate Trovate come sempre qui Pulsante per iscrivervi Altri video Io vi do l'appuntamento Alla prossima Vi dico ciao a tutti